Non sono riuscito a farlo perché sono andato verso i miei compagni subito, a me piace sempre andare verso i compagni della panchina perché è giusto che tutti siamo coinvolti soprattutto in questo momento, in questo periodo finale, però è normale che va mio figlio e lo aspettavo da tanto e sono felice. Sì, volevamo dedicare a tutti i costi la vittoria ad Antonio, non ci eravamo riusciti nell'ultima, ci abbiamo messo a tutta, però oggi penso che un pensiero vada a lui, alla sua famiglia e siamo contenti di dedicargliela anche a lui. Sì, come ha detto il mister dopo la partita con la Samp, non siamo stati bravi a gestire bene dopo il vantaggio loro, abbiamo sbagliato atteggiamento, volevamo subito ribaltarla, invece oggi abbiamo avuto pazienza nonostante siamo andati sotto, siamo riusciti a ribaltarla, poi ci avevano ripreso e poi siamo riusciti ad andare di nuovo in vantaggio, come hai detto te, con un grande cuore, con la testa giusta. Assolutamente, perché ancora siamo lì in fondo alla classifica, non bisogna mollare niente, con l'umiltà che abbiamo sempre avuto secondo me, quella non ci è mai mancata e dobbiamo continuare così perché ripeto ancora non abbiamo fatto niente, dobbiamo cercare di non buttare via tutto quello che di buono stiamo facendo ultimamente, quindi dobbiamo continuare così. Grazie a tutti.